Buongiorno a tutti, sono Mara Marzocchi, faccio parte dell'Italian Community Manager Community e oggi vi do il benvenuto alla quinta edizione del nostro Summit. Nel dire quinta sono abbastanza sorpresa e penso che i miei compagni di viaggio lo siano altrettanto perché praticamente noi organizziamo questo evento nel nostro già risicato tempo libero ma abbiamo trovato un escamotage in quanto da quattro mesi a questa parte ogni rinunciamo al nostro pranzo il giovedì, ci vediamo in hangout, cioè in videoconferenza e da tutte le parti del mondo perché fra l'altro giriamo anche molto, diamo vita a questa Summit. La prima cosa a cui pensiamo è naturalmente l'agenda, cerchiamo di trovare sempre argomenti nuovi e speaker da diverse realtà in modo che ognuno possa portare il proprio punto di vista. L'altra cosa su cui ci focalizziamo molto è anche la promozione perché far conoscere il nostro evento non è semplice e soprattutto trovare i community manager non è affatto, è ancora più difficile. Perché lo facciamo? Perché vi sembra strano ma il nostro evento è l'unico incontro, l'unica occasione in Italia dove si può parlare intorno ai temi del community management. Per noi questo è un ruolo lavorativo sia per chi lo fa proprio come lavoro che chi lo fa come professione e pensiamo che sia anche un lavoro non semplice con delle caratteristiche complesse e portare gli obiettivi della community avanti non è affatto una cosa scontata e perciò abbiamo organizzato questo Summit per condividere esperienze e condividere conoscenza. Noi tutti per primi siamo community manager e sappiamo quanto è importante portare la condivisione perché solo così riusciamo a crescere. Ci sono tante facce nuove oggi perciò vi espongo un attimo com'è la giornata. Praticamente si divide in due macro aree, la mattina e il pomeriggio. La mattina ci sono dei talk e il pomeriggio è dedicato all'unconference. L'unconference è un formato molto dinamico dove tutti possono dare il loro contributo. Ha pochissime regole e ve le spiegheremo proprio quando verrà fatta l'unconference dopo pranzo perché è uno dei classici casi che è più facile farlo che spiegarlo. Noi abbiamo messo diversi momenti di networking perché come vi dicevo prima è importante conoscersi e condividere. Perciò dopo i primi due speaker ci sarà il primo coffee break, poi ci sarà il pranzo dove anche lì vi prego, credo che non lo siate ma non siate timidi e praticamente andate a conoscere gli altri. Poi c'è l'unconference che è una conferenza che per sua natura porta a dialogare e poi abbiamo il networking aperitif. Purtroppo c'è un cambio di programma nel senso che Alessio Fattorini era il nostro closing keynote, ha avuto un problema in famiglia e non può partecipare. Questo ci dispiace perché Alessio è anche uno dei nostri membri del team e inoltre è un bravissimo speaker. Questa è l'unconference dove vedete Alfredo all'opera e vedete che tutti danno il proprio contributo per costruire l'agenda. Questi siamo noi, siamo sette scappate di casa come vi definisco io. La prima in altro è Chiara, Chiara Brughera, che è la padrona di casa. Lei lavora in tag, se avete domande su questo spazio, su cosa fa, su quanto valore crea, chiedete direttamente a lei. Poi abbiamo Azzurra che è community manager per Google, Alessio che purtroppo non è qua, c'è Enzo, community manager per Codemotion, anche lui oggi per motivi personali non può essere qui, io, Mara Marzocchi, Codemotion, Alfredo Morresi, Google e Valentina Carirolo, sempre di Codemotion. E poi naturalmente qua abbiamo un bellissimo punto interrogativo perché naturalmente non siamo un gruppo che uso, anzi, perciò se volete far parte della nostra community, volete attivamente organizzare la prossima edizione, fatevi avanti, noi siamo qua. Se volete rinunciare, non sapete cosa fare il giovedì a pranzo, insomma avete una valida alternativa. Naturalmente abbiamo anche una community online dove portiamo avanti la conversazione, dove quotidianamente parliamo dei temi del community management, ma anche i membri portano dei casi reali, cose che succedono tutti i giorni nella loro community e si discute insieme su come risolvere le problematiche che possono nascere. Questi sono gli sponsor che hanno aiutato questa edizione a essere creata. Naturalmente noi abbiamo anche un bilancio pubblico, è tutto senza fini di lucro, però diciamo che ognuno porta un po' il contributo anche non solo in soldi ma anche in cose che sa fare. Infatti Talg ha portato la location, Grusp ha portato, oltre a averci aiutato a fare il sito, anche sono coloro che stanno registrando i video, e Google Code Emotion ha aiutato anche con qualche soldino per pagare il catering. Questo è l'angolo delle community, che è là, questo è l'angolo delle community dell'anno scorso. Abbiamo chiesto a ognuno di voi di portare una maglietta, un logo stampato, un adesivo, per avere anche una rappresentazione grafica di quello che sta succedendo e condividere proprio anche visivamente quali sono le community presenti all'evento. Parte molto molto importante, questo è il nostro codice di condotta, siamo un evento totalmente inclusivo, non ammettiamo nessuna forma di molestia, disuguaglianza, se qualcuno di voi si sente in qualche modo, diciamo, non si sente a proprio agio oggi, per qualsiasi motivo, ce lo vengo a riferire che cerchiamo naturalmente di risolvere il prima possibile. Il nostro codice di condotta lo trovate sul nostro sito, nell'angolo delle community, è anche attaccato in giro per la location. Questo è il nostro tag, sapete già quello che dovete fare, e adesso tocca a voi, nel senso che facciamo un rapido giro di presentazioni, siamo abbastanza perciò veramente nome e cognome, di che community fate parte e cosa fa la vostra community. Inizio io, sono Mara Marzocchi, sono co-fando di CodeMotion, CodeMotion è una realtà che si relaziona molto con i developers, siamo andati da una community e le community sono proprio il nostro cuore pulsante. Prego. Stefano, mi occupo di attività fisica e nutrizione, la mia community è Dimagrisci Mangiando. Ciao a tutti, io sono Eleonora Tronci e mi occupo delle community di Leutron, Mercatopoli e Baby Bazaar. Buongiorno, sono Annette, sono una community manager freelance e oggi vi parlerò della community di Ufficio K Eventi. Ciao, buongiorno, mi chiamo Fabiola Valentini, io sono event manager in un'azienda che si chiama Tron e rappresento oggi contentintelligence.net, che è una community che parla di intelligenza artificiale e content marketing. Ciao ragazzi, sono Caterina, io lavoro per Airbnb da quasi sette anni e in questo periodo mi sono occupata di community in vari livelli, sia come community manager qui in Italia e sia a livello globale nella creazione di strategie di community da applicare in diverse parti del mondo. Ciao a tutti, io sono Francesco Barresi, mi sono occupato di community di crowd mapping nel passato e adesso faccio parte di alcune community aziendali che stanno aiutando l'azienda a cambiare. Buona giornata. Ciao, Corrado Paoletti, non sono community manager, sono la mosca bianca. No, allora, ho studiato in passato, se vogliamo dire, sono community manager della mia scala, del condominio, ecco, diciamo. No, a parte gli scherzi, ho studiato in passato nell'ambito del community manager, ci ho fatto anche una tesi sopra, ci ho sviluppato un prodotto e poi quando ho cambiato azienda mi hanno detto non siamo interessati alla community. Quindi io ho cambiato settore e adesso mi piacerebbe rientrare nell'ambito della community. Ecco, community manager, quindi sono curioso, sono un infiltrato. Ciao, sono Giordano, mi accodo anch'io perché non ho nessuna community e il mio interesse è al momento del tutto accademico e spero di avere un buon confronto con voi. Grazie. Ciao a tutti, io sono Elia e anche io non ho una community ma voglio semplicemente imparare. Ciao a tutti, io sono Pierpaolo Cimirro, lui Tiziano Interlandi. Noi siamo membri di una community agile aziendale, Agile Surfers for a Better Way ed è una community che sta spingendo la transition agile all'interno della nostra azienda. Siamo qua anche in rappresentanza dello IAM, l'Italian Agile Movement, perché siamo soci dello IAM. Ciao, ho sbagliato l'evento, pensavo stessimo al corso di yoga. No, scherzo, sono Marco Arena, sono il presidente di Italian C++ Community, ci occupiamo di divulgazione di C++ che è un linguaggio di programmazione abbastanza brutto e eventi e altre attività. Grazie. Buongiorno a tutti, Andrea Romoli, oggi rappresento Lego Silius Play, Lean Startup Machine e Silicon Drink About, tre community. My name is Katja Westling, I understand Italian, parlo anche un po' di italiano, ma per lavoro è un po' difficile, perché sono arrivata a novembre, così non tanto tempo. I work with organizational development and culture, and when it comes to culture, that regards also community development for some of the organizations that I work here before. Here in Italy, I work for Nana Bianca, Startup Studio, and in the past I worked for us too, that made Monument Valley and was the community manager for Google's Android Wear. Ciao, sono Davide, lavoro anch'io con Katja, per Nana Bianca, e siamo venuti un po' a sentire cosa ci raccontate oggi. Ciao a tutti, Aldo Donetti, mi occupo di community in Microsoft per la zona EMEA, per i nostri progetti open source e documentazione internazionale. Ciao a tutti, io sono Angelo, e lui è Micael, e da sei mesi stiamo cercando di sviluppare una community di professionisti che si chiama Crafted Software. Non tratta solo temi di tecnologia, ma anche di metodologie e organizzazione del lavoro. Ciao, sono Gaia, e faccio parte del team Talent Garden e mi occupo della community Talent Garden su Roma. Ciao, sono Mauro, lavoro a Milano, ma nell'Ascolano stiamo provando ad avviare una piccola community di innovatori interessati al mondo delle start-up per aiutare le nuove generazioni a affrontare meglio il presente e il futuro. Sono Ilaria. Che eravamo insieme, eravamo insieme. Scusate. Ciao, io sono Stefano, lui è Guido, e ci occupiamo del Meetup Filosofia Milano da un paio d'anni. È una community online dove ci sono parecchi partecipanti, poi ci troviamo spesso anche in tanti a parlarne. Ciao, io sono Mike, Lead del GDG Bari. I GDG sono le community italiane supportate da Google che fanno divulgazione tecnologica appunto di tecnologie quali Android piuttosto che AngularJS di tecnologie Google e come me ci sono tanti altri ragazzi di altri GDG. Ciao a tutti, buongiorno. Sono Aldo Pergergi, quello col cognome più difficile in questa conferenza da sempre. Faccio parte, ho fondato Mindsharing.tech e Coder Dojo Roma SPQR che sono due community che crescono, piccoli nerd, futuri membri delle vostre community. Come sempre chiedo, sempre quel grazie da tutti voi. insieme a me c'è Gianluca e faccio parte del GDG Roma, mitici GDG. Grazie a tutti. Ciao a tutti, sono Omar, faccio parte del GDG Milano e organizzo appunto eventi tecnologici principalmente sulle tecnologie Google. Ciao a tutti, io sono Matteo Parozzi e sono community manager di Snowit. e una community che raggruppa tutti gli appassionati di sport invernali in Italia e all'estero. Sono Federico, marketing manager di Snowit e lavoro insieme a Matteo. Ciao, sono Giulia, GDG Milano sempre. Abbiamo già detto tutto sul GDG quindi spero di avere un buon confronto con voi. Ciao, sono Gabriele, anch'io GDG Milano. Ciao a tutti, sono Nayara Costa. Sono finita qua oggi, praticamente sono arrivata in Faracadut perché non avevo preso il biglietto ma sto sostituendo un'amica che ci conosciamo da community di WordPress quale io sono co-organizer di Meetup in Milano e organizziamo questi incontri mensili sempre secondo martedì del mese e a novembre facciamo una conferenza. in WordPress siamo tutti volontari e siete benvenuti. Buongiorno a tutti, sono Marvi Santamaria, sono social media manager per lavoro e anche per passione. Solo per passione sono founder della community Tinder and the City nata dal fatto che un anno e mezzo fa mi sono resa conto che il disagio unisce le persone. soprattutto le donne ma anche gli uomini e così ho fondato questa community basata su storie che mi raccontano che vengono dalle dating app e dagli incontri online. Grazie. Ciao a tutti, io sono Chiara Magnani, sono la responsabile della comunicazione di Rete al Femminile di cui vi parlerò più tardi. Sono un'appassionata di community e quindi sono felicissima di essere qua e di poter imparare qualcosa da voi. Ciao a tutti, io sono Sandra, sono un po' qui anche io per caso. In realtà rappresento Milano Skating che è una società sportiva. Patiniamo per Milano, non so, qualcuno di voi ci avrà anche visto. Ciao a tutti, siamo Michele e Davide di Selfie Mirror e stiamo cercando di sviluppare una community di social fashion. Ciao a tutti, sono Gian Giacomo Gagliani e lei è Maria Zogni. Maria Zogni. Noi in realtà non siamo una community, lavoriamo per Solchice.bio che è una start-up che fornisce dei ristoratori. Fornisce i ristoratori, devo avvicinare il microfono, scusami. E niente, abbiamo dei ristoratori molto affezionati a noi e il nostro obiettivo è quello di crearla una community con loro e quindi siamo qui per questo. Ciao a tutti, buongiorno, io sono Esther e sono qua un po' perché mi sono invitata, scusate, sono straniera, quindi sto imparando a parlare. Faccio parte, diciamo, della community di Sherwood perché ho venuto a uno degli eventi e mi è piaciuto tantissimo, quindi oggi sono qua interessata a vedere tipo questo mondo perché penso che la community fa parte di tutti, noi ho, sino noi. Ciao a tutti, io sono Fabio di Sherwood, community manager. Sherwood è la più grande outdoor community sul mondo dello sport outdoor, quindi tutto ciò che riguarda il noleggio e attrezzatura di bike, snow e water ci potete trovare. Tutto ciò che riguarda l'esperienza outdoor come bike tour e rafting noi lo facciamo e adesso siamo diventati da poco tour operator e quindi organizziamo anche viaggi e adventure in tutto il mondo. Ciao a tutti, Salvatore, sono community manager di Fit Your Life Milano, ci occupiamo di nutrizione, sport e organizzazione eventi anche sportivi ma anche di socializzazione, aperitivi, sfilate di moda e quant'altro. Ciao, sono Marepina, vengo da un'azienda che è open source evangelist e affianca alla parte enterprise varie iniziative più community eventi gratuiti, meetup principalmente. Abbiamo iniziato tre anni fa con la community Elasticsearch User Group che si incontra regolarmente a Milano, almeno tre volte all'anno e a Roma e poi abbiamo affancato Kafka su Roma che ha un'altra community gemella su Milano però che non gestiamo direttamente noi io. E adesso stiamo partendo con Apache Mesos, una terza community che sempre lavora sul mondo dei big data e fax data quindi molto IT. Ciao a tutti, io sono Maurizio Gullotti, ho fondato GoDrink, è una piattaforma e una community per fare wine sharing, quindi le persone possono condividere bottiglie di vino e altri nuovi GoDrinker che possono partecipare agli eventi e acquistare i bicchieri sulla piattaforma e incontrarsi e conoscersi. Grazie. Ciao a tutti, sono Luca Molinari, sono cofondatore e coorganizzatore di Service Design Drinks Milano di cui vi parlerò estensivamente nel tocchi dopo, sono una serie di incontri informali per portare insieme alla community milanese del Service Design e sono appunto incontri periodici. Ciao a tutti, Gioffro, sono l'extracomunitario, vengo da Lugano, porto qua tre cappelli come cofounder di Fontenders Ticino, meetup organizzato, dunque community organizzata, organizzata in Ticino per lo sviluppo front-end, dunque sviluppo IT principalmente, un altro cappello è quello del core team di TEDx Lugano che cogestisco col curatore e il terzo cappello è quello di Swiss Social che è una community di networking in tutta la Svizzera che stiamo cercando di far partire da 4-5 anni che esiste, va un po' secondo le zone, dunque a Zurigo adesso sta tirando tanto, a Lugano faremo un altro evento, eccetera, eccetera. Dunque io starò qua solo la mattina perché il pomeriggio devo andare e non posso partecipare alla conference che sono sempre molto belle e molto arricchenti. E lo so, lo so. O se lo posso fare ma devo parlare per primo, però dopo non posso ascoltare, dunque. buongiorno a tutti, sono Francesca Baldassarri, sono community manager per Google Cloud in EMEA, sono organizer di Bologna Developer Zone e anche organizer di Google Cloud Developer Community qui a Milano. e in EMEA. Grazie a tutti